Grazie al bravo stilista Karl Lagerfeld. La femminilità, la sicurezza, lo humor e la seduzione che trappelano da un capo Chanel lasciano una traccia inconfondibile. Perfezione nei tagli, dovizia di dettagli, chiarezza nel proporre gli accostamenti fanno dello stile Chanel il più amato e anche il più portabile dalle signore e il più apprezzato dagli uomini. Collane, cinture, bottoni, rifiniture sono gli stessi di sempre, eppure sempre più modelli. Qualunque donna di qualsiasi età può indossare un tagliore così e non è poco. Nuovi invitanti corsetti di velluto e pizzo abbinati allo scozzese, Bordi in passamaneria, così come gli aveva concepiti la grande Coco già negli anni venti. Setevo al per sedurre, uno stile assoluto, allora così come fra cent'anni. Setevo al pericolo, un po' di sottotitoli, 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 un po'